direttore sportivo Tony Sabella Morere Calciacinque che archivia anche la pratica partenica audace con un bellissimo 5 a 3 sì eh diciamo che non è stata facile questa partita ehm loro ci hanno fatto soffrire tutto il primo tempo eh anche se erano molto rimaneggiati diciamo che siamo andati subito in svantaggio per un errore un po' madornale poi siamo cresciuti abbiamo fatto subito abbiamo recuperato la partita l'abbiamo presa e siamo andati avanti. Sicuramente l'episodio della giornata è l'assenza di mister Giacomo Madonia come l'hanno presa i ragazzi e se soprattutto questa assenza è pesata. Sì è pesata anche perché Giacomo ha un forte legame col Morere Calcio e Cinque e noi vogliamo dedicare tutti dirigenti e anche la squadra questa partita è Giacomo Madonia e voglio dire anche un'altra un'altra cosa in merito eh che il nostro diciamo campionato continua così alla grande come primi il nostro mercato si è interrotto noi ufficialmente non non andremo non andremo sul mercato aspettiamo il rientro di un nostro ragazzo che lunedì ha un intervento al ginocchio che è Roberto Grimaudo a cui facciamo un in bocca al lupo. Questo Morere Calcio a Cinque che ormai ha due sole partite dalla conclusione del gelone di andata è ancora in vetta. Ancora una volta si ribadisce la volontà di ambire solo alla salvezza o verosimilmente c'è qualcosina in più. Assolutamente adesso la salvezza credo che sia quasi un raggiunta e adesso vogliamo qualcosina in più. Ci sta piacendo stare lassù e i ragazzi meritano perché danno sempre il massimo. Ripeto la nostra forza è il gruppo e continuiamo su questa strada. Moreno Ferraro un gol sul finale partita archiviata una bellissima prestazione contro il partenico audace. Sì oggi abbiamo portato i tre punti a casa nonostante tutte le difficoltà che oggi avevamo anche l'assenza del mister un poco c'è pesato però tutto sommato abbiamo fatto comunque la nostra partita e abbiamo portato i tre punti a casa. Sei sicuramente uno degli uomini chiave di questo Morere Calcio a Cinque possiamo dire sorpresa del campionato di Serie C2. Qual è il tuo trucco anche all'interno dello spogliatoio dove sappiamo che sei uno dei punti di riferimento? Ma l'importante allenarsi con continuità ma soprattutto io ringrazio tutti i miei compagni perché quando segno io è come se segnano loro segna tutta la squadra. Dal punto di vista dirigenziale si cerca sempre di mantenere la calma e mantenere le aspettative molto basse. Dentro lo spogliatoio questo Morere Calcio a Cinque dove vuole arrivare? Noi giochiamo per vincere tutte le partite e puntiamo alla vittoria del campionato come come sta avverendo. Non ci davano ci davano per perdenti e stiamo in testa alla classifica. Spidiamo tutti a batterci.